La prossima video Guardate Ti prego fa che sia Bionetta 3, fa che sia Bionetta 3, non ci spero eh Non è Bionetta 3 Aspetta, però Platinum? No non può essere Bionetta 3 Non ne ha proprio l'aspetto Che cazzo è? No, 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 non credo sia Zelda Adesso come adesso potrebbe essere qualsiasi cosa Ok, ci sono mostri che devastano cose Quindi Che cosa stiamo guardando? O meglio, che dovrebbe essere? Quello del witch Porco del Bionetta 3 Cazzo eccolo, porca puttana Bionetta 3 Cazzo Finalmente Che culo Eh no, cioè, vabbè Porco del quante fregni Eh scusate, quante fregni Porco del regà Final porco del Bionetta 3 Cazzo Bionetta 3 35 anni che lo voglio vedere sto gioco C'è già il gameplay Che cazzo è? Graficamente sa un pochino Di non proprio next stage Che cazzo è successo? Il design di mostri era un pochino quello di Bionetta comunque Eh no, cazzo Porco, che cosa sta facendo? Ti prego Se c'è anche la data di uscita Ti giuro Mi taglio il cazzo Lo rivendo su ebay Ah, controlli proprio i I demoni Che evochi con i capelli Ah, questa è una cosa molto figa Ripeto, graficamente non è esplosivo Non dico che sta un po' di vecchio Però Però, cazzo Cioè, sembra veramente divertente Bionetta 3 Non ci spero di una data di uscita Sarebbe troppo presto Fate in un game Ah, ah, ah I da chi camia? 2022 Almeno c'abbiamo un minimo di una finestra Che cazzo Chi cazzo è questo? Allora c'abbiamo un po' di uscita